Era una scelta che noi abbiamo voluto fare con forza Durante il periodo più difficile, quello in cui tante ragazze e tanti ragazzi non riuscivano a vivere la socialità Allora abbiamo deciso di individuare in iniziative rivolte ai ragazzi e alle ragazze più giovani Le risorse che sono frutto dell'avanzo del Consiglio regionale Un bando da 1.750.000 euro, un piano di rigenerazione rivolto ai giovani C'è tempo sino al prossimo 16 maggio per partecipare Ed ha quattro linee di intervento, rigenerazione urbana, culturale, sociale e inclusiva Abbiamo deciso di individuare rigenerazione toscana come momento di ripartenza rivolto ai più giovani Quindi rigenerazione culturale, penso alla street art, rigenerazione sociale con spazio Grazie! Grazie!